Tassi mai così bassi per aprire un mutuo e richieste sempre più numerose tra i veneti di poter avere una casa di proprietà. È il risultato dello studio elaborato da Friul Adria Credit Agricole, che sulla base di un nuovo trend economico ha presentato oggi una innovativa soluzione di accesso al credito attraverso il tasso fisso. Solo nello scorso anno la richiesta di aprire un mutuo è aumentata del 37% e a Padova sono stati chiusi 426 mutui prima casa. Certamente le condizioni di mercato oggi sono molto più vantaggiose rispetto a qualche anno fa, quindi stiamo assistendo ad una discesa molto marcata delle condizioni di mercato e questo sicuramente aiuterà le famiglie ad avere un accesso migliore al credito. Faccio un esempio pratico, per un mutuo di 100.000 euro in 20 anni il cliente andrà a pagare una rata di 499 euro per i primi 24 mesi grazie a un tasso di ingresso dell'1,82 che rimarrà invariato per i primi due anni. Il mutuo è stato definito dagli stessi inventori Green perché comprende un accordo con Edison, la fornitura per un anno gratuita di energia elettrica per sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette. Inoltre la banca ha deciso di contribuire alla riqualificazione territoriale sostenendo delle iniziative di rimboschimento, quindi grazie alla partnership con A0CO2 per ogni mutuo stipulato verrà piantato un albero in una zona soggetta a grave rischio di dissesto idrogeologico. L'obiettivo è seguire il corso del Po, gli alberi saranno piantati da Alessandria in poi.